L'area Fregrea al centro della regione Campania. Grandi investimenti e grandi interventi realizzati al centro-destra, occasione di sviluppo per tutta l'area. Basti pensare a più Europa e a tutto quello che rappresenteranno per il futuro della città Fregrea, un rifacimento complessivo e il restyling di grandi parti della città di Pozzuolo. Grazie a tutti. Altri due interventi importanti per la nostra città e per l'intera città Fregrea sono l'intervento sui grandi laghi e sul depuratore di Cuma. Per la prima volta si è pensato al mare per lo sviluppo di nuovi settori, di quelle aree che potranno ridare ulteriore sviluppo turistico alle nostre città. Ecco, questi sono i milioni e milioni di Euro che la regione Campania ha stanziato per la rifunzionalizzazione del depuratore di Cuma. Circa 50 milioni di Euro. Altri 50 milioni di Euro per il progetto Grandi Laghi. Siamo sicuri che dopo questi due interventi ci sarà una nuova bandiera a blu per il nostro litorale. Se vince Giacobbe, vince l'area Ferrea. Costruiamo insieme il futuro della regione Campania. Il 31 maggio. Vota Forza Italia. Scrivi Giacobbe con Caldoro Presidente. Il 31 maggio. Vota Forza Italia.